Ehi, ciao a tutti, in questo video ascoltate quanto suono bravi e come suonano con feeling Giuseppe Cacciola alla marimba, Marcello Surace alla batteria e Michele Fagnani al basso elettrico Il titolo del brano è Anasazi di Alice Gomez, arrangiato da Giuseppe Cacciola Noi dobbiamo solo godere di queste meravigliose performance Buon ascolto a tutti, ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti